Ciao a tutti! Oggi voglio continuare con voi un argomento di analisi 1, ovvero voglio affrontare il problema di Cauchy. In matematica, quando parliamo di problema di Cauchy, questo consiste nel trovare la soluzione di un'equazione differenziale di ordine n. Questa deve soddisfare però delle condizioni iniziali. Ad esempio, abbiamo y di a uguale y con 0, la derivata prima che sarà uguale a y con 1, la derivata seconda y con 2 e così via. Ovviamente, molto spesso negli esercizi che vedremo tra poco, per affrontare un problema di Cauchy bisogna studiare la forma delle frontiere del dominio di definizione dell'equazione differenziale che ci viene data, in modo tale che io posso determinare una soluzione che soddisfa appunto le condizioni di contorno di Cauchy. Diciamo che, detto questa piccola introduzione e una piccola definizione di che cos'è il problema di Cauchy, io direi di iniziare subito con un esercizio, così da capire al meglio ciò di cui stiamo parlando. Il primo esercizio che voglio affrontare ci dice appunto di risolvere il problema di Cauchy di questa cosa. abbiamo x' più t tangente di x uguale 0, con la condizione iniziale ovvero x nel punto 0 che vale proprio un mezzo pi greco. Allora, per svolgere tale problema di Cauchy io mi vado a separare le variabili, ovvero faccio x' fratto la tangente di x che sarà uguale proprio a meno t. Quindi io mi vado a svolgere l'integrale dove faccio coseno di x fratto seno di x tutto in dx che sarà proprio uguale a meno l'integrale di t in dt, ovvero semplicemente riscritto la prima parte sotto forma di integrali. Quindi se noi lo vogliamo riscrivere ulteriormente posso fare che il logaritmo di seno di x sarà uguale a meno un mezzo t al quadrato più c, ovvero, detto anche in altre parole, trovando proprio diciamo il risultato, abbiamo che il seno di x sarà uguale ad a per e elevato alla meno t al quadrato fratto 2, dove possiamo vedere che c, quando io vado a scrivere proprio a uguale e elevato alla c, sono delle costanti. Una volta trovato questo mi vado a prendere la condizione iniziale, ovvero x nel punto 0 che valeva proprio un mezzo pi greco e posso vedere che ottengo proprio che a sarà proprio uguale ad 1. Quindi possiamo semplicemente dire e quindi risolvere tutto questo problema di Cauchy dicendo che la soluzione del problema di Cauchy risulterà essere proprio x di t che sarà proprio uguale all'arco seno di e elevato alla meno t al quadrato fratto 2, proprio perché noi abbiamo trovato che a è uguale 1, lo vado a sostituire qua dentro e appunto mi trovo proprio la soluzione di x con t. Quindi il primo problema di Cauchy è stato risolto. Vediamone anche un altro. quest'altro esercizio ci chiede sempre di risolvere il problema di Cauchy però di x' primo meno x uguale 1 sempre con la condizione iniziale ovvero x nel punto 0 che però in questo caso verrà proprio 0. Allora per risolvere invece questo problema di Cauchy vado ad applicare la formula integrale ovvero x di t sarà proprio uguale ad e elevato alla meno a di t per x con 0 più l'integrale appunto che va da t con 0 a t di 1 per e elevato alla a di s in d con s. In questo caso posso vedere però che t con 0 vale proprio 0, x con 0 vale anche questo 0 proprio perché ci veniva dato dalla condizione iniziale e poi abbiamo che a con t vale proprio l'integrale di meno 1 in d t che io lo posso anche risolvere oppure scrivere diversamente e sarà proprio meno t. Quindi tutto quello che ho trovato lo vado a sostituire nella risoluzione di x con t ovvero io questo x con t me lo vado a riscrivere e posso fare che sarà uguale ad e elevato a a alla t a di t abbiamo detto essere uguale a meno t ci sta questo meno quindi verrà e elevato alla più t poi x con 0 abbiamo detto essere zero più questo integrale me lo vado a risolvere e faccio che sarà uguale a meno e elevato alla meno s valutato appunto da 0 a t proprio perché t con 0 io avevo detto essere proprio uguale a 0 quindi risolvendolo viene e elevato alla t per 1 meno e elevato alla meno t che se lo vogliamo scrivere anche diversamente posso scrivere proprio e elevato alla t ovvero semplicemente moltiplicando meno 1 perché quest'altra moltiplicazione veniva e elevato alla t meno t che veniva a 0 quindi e elevato alla 0 sarà proprio uguale ad 1 ovvero quindi il risultato finale di questo problema di Cauchy sarà proprio uguale x di t che sarà uguale ad e elevato alla t meno 1 lo stesso risultato lo potevamo ottenere anche in un altro modo ovvero andavamo a moltiplicare l'equazione originale proprio per e elevato alla a t che veniva appunto e elevato alla meno t facevamo la derivata e quindi ottenevamo proprio che la derivata rispetto a dico t di e elevato alla meno t per x era proprio uguale a e elevato alla meno t quindi questo è il risultato appunto di questo problema di Cauchy io spero che questi due esercizi siano chiari se avete qualche dubbio o qualcosa non vi chiara scrivetelo pure nei commenti così che io possa aiutarvi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento ciao